Sto organizzando un evento countdown nella mia comunità locale perché il rispetto dell'ambiente deve diventare il pensiero naturale per tutti. La città di Hawaii è organizzato un evento countdown per incontrarsi, potrebbero aiutare le tachano, per aiutare il più rispetto del momento, change climat. Fondare migliori alternativi in cui viviamo, per un ambiente sostenibile e sostenibile, non è debattabile. E come un risultato, ho organizzato un'evento di un'evento di comunità locale. Organizzo TG Sao Paolo, Calm Down, Contagione Regressiva Pelo Clima, per poter compartilhar idei che devono essere espalhati, relacionati con questa causa, che è tanto urgente quanto importante. Stangen nazo, e come miglior attra zucchine e riccangolo. Abbiamo una propria condanna in cui ha la traduzione tend esempioRL-ci controlli che hanno può faccio differenziarlo. L'innovadores Abbans, le pensare, nei attivisti di Brüssel, a propos di una discussione sull'urgenza climatica. Mā ke alulikiana o kākō e loli ai, ka loli o ke aniau.